Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Teramo a stabilire l'esatta causa del decesso di Clotilde di Bonaventura, di 83 anni, e Rinaldo di Lorenzo, di 87 anni. I due anziani coniugi trovati senza vita in avanzato stato di decomposizione, ieri pomeriggio intorno alle 13.30, all'interno della propria abitazione, nel centro storico di Teramo. A dare per primo l'allarme, il figlio, insospettito per non essere riuscito a contattarli nelle ultime 24 ore. Così ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno sfondato la porta dell'appartamento in cui vivevano i genitori. All'interno della camera da letto la tragica scoperta, lui per terra, seminudo, la moglie sul letto. I carabinieri del reparto operativo di Teramo non hanno trovato né segni di violenza né di effrazione, Inoltre la casa era in ordine, pertanto hanno escluso per ora l'ipotesi più grave, quella dell'omicidio. Dunque la morte naturale sembra la causa più probabile del decesso. Secondo l'ispezione cadaverica, la morte dell'uomo risalirebbe a due giorni fa, quella della donna a quattro giorni fa. C'è mistero sul perché il marito non sia riuscito a dare l'allarme, il che fa pensare ad un malore improvviso, quasi contemporaneo, che potrebbe però averlo fatto agonizzare e morire lentamente al fianco della moglie. Sarà quindi l'autopsia, iniziata questa mattina presso l'ospedale Mazzini di Teramo, a stabilire l'esatta causa del decesso e ad accertare la distanza temporale della morte tra moglie e marito.